enjoy signori è random qui con voi con grande onore grande emozione ragazzi oggi ci troviamo qui in questo video alquanto emozionante almeno questo lo spero semplicemente perché lo sono io emozionato nel registrarlo ragazzi abbiamo raggiunto la cifra di 10 mila iscritti e le abbiamo già superate stiamo andando fortissimo ragazzi io non so veramente come ringraziarvi vi posso dire miliardi di cose che tanto si dicono ridicono ma magari si perde il valore di queste cose ma io vi giuro che sono di una felicità estrema ma non per il numero 10 mila iscritti ma per il traguardo per aver raggiunto questo obiettivo a me personalmente ragazzi ho avuto io ho avuto parecchi momenti difficili da quando ho aperto il canale parlando sia di vita personale che appunto del canale molto spesso mi avete chiesto se ti è mai passata la voglia di far video cose ragazzi è dura fidatevi perché comunque quando vedi che non ti arrivano risultati ti impegni non ti senti meno di altri ma comunque non riesci cose varie è difficile difficilissimo tante volte avere lo stimolo la voglia di ma poi alla fine non mollando i risultati arrivano a me costa davvero è costato davvero tanto sudore tanta fatica con gli standard di oggi probabilmente per molti 10 mila iscritti non è niente ma per me vale moltissimo ragazzi sono partito che avevo zero iscritti ragazzi oggi siamo in 10 mila era un sogno è un sogno che tuttora io vivo e voglio andare avanti così sempre più forte ma tutto questo ragazzi è semplicemente grazie a voi lo so che sembra scontato ma è così ragazzi è grazie a voi anche questo video un altro lennesimo video che io carico da due anni costantemente a parte un periodo difficilissimo che comunque non ho voluto dire niente a nessuno sono qui a caricare video sono due anni anzi sono quasi due anni in questo mese faccio due anni che carico video che creo contenuti che mi diverto e di sicuro andrò avanti veramente per tanto finché mi divertirò lo farò volevo ringraziare anche tutti coloro che tutti i giorni quotidianamente si rispecchiano con me che sono comunque i game grabbers non posso dire altro anche il look 4316 di avermi dato fiducia di essere sincero e di non mandarmela dire quando lo deve fare detto questo ragazzi probabilmente il video durerà tre minuti neanche ma comunque sono intensi e valgono veramente tanto non è questo lo speciale di 10.000 iscritti non so se lo farò probabilmente lo farò ma secondo me è speciale ogni video che esce ragazzi l'esserci sempre ed è speciale secondo me ogni vostro commento ogni vostro mi piace volevo chiudere il video ragazzi appunto ringraziandovi dicendovi che sono davvero soddisfazioni sono davvero soddisfatto di questa cosa ma adesso questo non è un punto d'arrivo come avevo già detto negli altri traguardi che avevo tenuto ma è solo un punto di partenza quindi forti tutti insieme andiamo a devastare i culi su youtube ovviamente scherzo ragazzi come sempre porterò contenuti cercherò sempre di fare cose innovative che possano portare avanti il canale e finché mi diverto lo farò detto questo io non vi dito più penso che per questo vlog possa bastare da rando e questo piccolo video speciale è tutto enjoy ragazzi